Vincenzo Contessi primo fotografo riminese a fine ottocento realizza un piccolo album souvenir a fisarmonica intitolato ricordo di rimini con le fotografie dei monumenti e dei luoghi più rappresentativi della città l'immagine di apertura è un tableau vivant la messa in scena di un quadro raffigurante l'episodio di paolo e francesca dell'artista Carlo Arienti